buongiorno a tutti ci si rivede per questo albo qui che l'inizio della seconda storia di mefisto bene questo è anche per segnalare a chi avesse letto o comprato semplicemente i primi tre episodi della saga disegnati dai fratelli cestaro che possono leggerli ci sono quelli sapete che non leggono il tex ogni mese ma aspetta che la storia sia finita bene quella prima parte è finita ha avuto un discreto successo i disegni di cestaro sono stati universalmente ammirati per il loro tratto gotico per le atmosfere horror ebbene qui passiamo a tutt'altra atmosfera abbiamo a che fare con il maestro civitelli uno dei decani della scuderia grafica di tex ebbene civitelli ci porterà prima sulla sierra nevada come vedete nel titolo di questa copertina che per la grafica ci riporta a vecchie copertine classiche del tex di bonelli e gallep e dello stesso villa che ormai anche lui è un decano dei copertinisti ebbene saremo quindi sulla sierra nevada poi nel deserto di altar in altre isole misteriose del golfo di california dove altre volte abbiamo ambientato storie magico avventurose nella nostra serie basti pensare a el supremo una saga che avevo scritto condotti ebbene suppongo che mefisto insieme a suo figlio yama che vi assicuro tornerà sano come un pesce quindi non lo vedrete sempre in condizioni miserante ma acquisterà anche lui terribili poteri si uniranno a lily zia di yama e sorella di steve dickard taglia mefisto per combattere la riscossa dei nostri eroi dico riscossa perché è vero che mefisto è stato sconfitto ma è fuggito è libero è ancora potente ha un suo impero del male in qualche covo nascosto che i nostri eroi non conoscono quindi tex kit carson e tiger sono alla caccia di mefisto sono alla ricerca del covo del genio del male e in questa caccia loro si uniranno ad altri alleati abbastanza potenti uno di loro è sicuramente morisco potete immaginare che per chiedere consigli su materie occulte il buon tex non possa che rivolgersi al curandero di pilares il bruco di pilares il saggio il morisco con suo fide eusebio quindi li rivedremo ma rivedremo anche e vi mostriamo la copertina nel prossimo numero un personaggio magico di giovanni ciponelli che manca ormai dagli anni 70 cioè da quando comparve nella famosa avventura di mefisto il drago rosso parlo di padma il lama del tibet che fu maestro di mefisto nelle arti oscure che lo introdusse ancora di più sul cammino della mano sinistra ovvero della magia nera ma che non era cattivo anzi stava cercando di portare la sua anima sulla via del bene ebbene mefisto in un certo senso lo fece fuori ma poi padma si vendicò spingendolo negli abissi della follia è una storia che avete letto in passato bene padma ritorna lo scopriamo ancora alla ricerca del suo antico discepolo ansioso di rimediare al male che ha fatto e sul suo cammino incontrerà un altro santone hindù di cui forse qualcuno conosce il nome e la figura perché aiutò mefisto a reincarnarsi nella storia di inizi di vent'anni fa ebbene questa saga quindi si conclude con un grande film in cinemascope con due squadre una del bene e uno del male l'una contro l'altra armate vedremo che succederà alcuni di loro hanno potere culti alcuni hanno solamente il potere del piombo ma questo come sappiamo in mano tex è superiore a qualsiasi altro potere anche perché difende la legge la giustizia e il bene e quindi buona lettura cari amici texiani buona estate con mefisto yama e i nostri parzi